ciao cuccio ciao amici del sestino sono diana e oggi mi trovo qui in compagnia di lorenzo bacchetti ci troviamo qui nel suo studio oggi come potete vedere è veramente più che uno studio un museo lorenzo raccontaci un po della tua passione tutto si collega comunque l'arte con la musealità oppure con i particolari di oggetti che io ho nel mio studio oppure di collezione sono tutti collegati per un motivo che semplicemente sia un legame tra arte artigianato cultura girando per valli e per per laghi ho sempre avuto l'opportunità di poter conoscere gente vedere i mercatini fare anche mercato di scambio cambiare alcuni miei quadri per degli ocetti che a me particolarmente mi interessavano quindi da lì è nata anche la passione per il collezionismo lorenzo diciamo agli amici del sestino che il 10 giugno tu sarai il nostro ospite per una grande mostra d'arte dove potrai esporre tutte le tue tele tutte le tue opere e dobbiamo anche dire che lorenzo proprio quella sera dipingerà un quadro nel nostro lago di garda per lei è possibile in plein air oppure mi ispirerò comunque a delle visioni che ho che durante il giorno ho avuto modo di vedere e comunque sicuramente farò un ottimo lavoro insomma di fare meglio di me stesso per per dare anche migliorizzato la serata l'evento bene allora amici del sestino vi aspettiamo il 10 giugno per la mostra di lorenzo ciao a tutti